Considerata la particolare affluenza prevista per domani a Oneglie in occasione della processione dei fuochi artificiali in onore di San Giovanni, il sindaco di Imperia Carlo Capace ha emesso un'ordinanza relativa alla pubblica sicurezza nell'intera area interessata dalla manifestazione a tutti i soggetti a qualunque titolo legittimati a vendere bevande per asporto e fatto di vieto di vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine a partire dalle 18 e fino alle 2 di notte. Sarà vietato a tutti indistintamente consumare o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro, lattine o comunque in contenitori realizzati col medesimo materiale. Per consentire lo svolgimento della tradizionale processione inoltre scatteranno di vieti di sosta e di transito in tutte le vie del centro storico anegliese interessate dal passaggio del corteo religioso.